In un tempo nel quale gli uomini delle istituzioni erano spesso collusi con la mafia, in un tempo nel quale il sindaco di Palermo aveva il volto della mafia, un uomo delle istituzioni, Gaetano Costa, il procuratore Costa faceva fino in fondo la propria parte tra la disattenzione e l'ostedità all'interno dello stesso palazzo di giustizia. Ricordare Gaetano Costa è un tempo nel quale uomini che facevano il proprio dovere, uomini delle istituzioni che prestavano fedeltà all'aggiuramento ai valori costituzionali trovavano la morte e trovavano dietro la loro morte, i loro assassini, l'ombra terribile di corrotti esponenti alle istituzioni.